Con un comunicato stampa diffuso ieri, Maria Giovanna Gradanti, rappresentanza del gruppo politico del consigliere Quarrella, ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità impellente di arrendere idonei alle nuove normative di sicurezza e distanziamento sociale gli edifici scolastici di Ispica prima che l'autunno e l'inizio del nuovo anno scolastico sorprendano impreparati i lavoratori della scuola e gli studenti. Nella comunicazione di fine anno scolastico, inserita dal sindaco Muraglia all'interno di uno dei suoi ultimi bollettini Facebook, il primo cittadino ha, secondo noi, ingiustamente, riferito alla sua amministrazione i traguardi conseguiti dagli istituti scolastici cittadini nel portare avanti la didattica distanza, facendosi da solo i complimenti per la distribuzione dei computer, dei tablet e degli abbonamenti ad internet riservati agli studenti, colpevolmente, escludendo dai suoi ringraziamenti i veri artefici dell'iniziativa, grazie ai quali tutto ciò è stato possibile. Il sindaco, infatti, non ha speso una sola parola per i docenti e il personale amministrativo delle scuole, che si sono fatti carico di portare avanti qualcosa di mai sperimentato fino ad oggi. Ha solo nominato gli eccellenti dirigenti scolastici, probabilmente per giustificare l'immancabile foto a corredo dei suoi iscritti, che lo ritrae, insieme all'assessore e alle professoresse Faraci e Maltese, dichiara gradanti. Avremmo voluto, al di là dei messaggi di fine anno, conoscere qualcosa in merito a come si intende provvedere all'attivazione in sicurezza dell'attività scolastica nel prossimo mese di settembre. Nei mesi estivi, in cui gli edifici non vengono utilizzati e nell'attesa che vengano emanate le disposizioni definitive dal Ministero dell'Istruzione per il contenimento del coronavirus all'interno di essi, infatti, appare opportuno che l'amministrazione comunale provveda ad attuare gli interventi di adeguamento e manutenzione come segnalati o richiesti dai presidi, proceda alla sanificazione puntuale dell'interno degli spazi esterni delle scuole, nonché individui adegui e ad attrezzi in via preventiva nuovi locali affinché la didattica possa svolgersi nel rispetto del distanziamento interpersonale minimo per evitare i contagi. Sebbene questa criticità e l'opportunità di programmare per tempo una serie di interventi, in tal senso siano già esposte dalla consigliere comunale Quarrella durante la seduta della civica Sise di giorno 24 aprile scorso, tutt'oggi, per quanto ci è dato conoscere, nulla o quasi è stato fatto in merito. È necessario programmare adesso perché i tempi sono già strettissimi. Reiteriamo, pertanto, la necessità di provvedere a questo tipo di progettazione affinché, fra tre mesi, l'attività scolastica possa riprendere a pieno regime, conclude Gradanti, in sicurezza per il personale, gli studenti e le loro famiglie. Abbiamo letto il comunicato stampa a firma della portavoce del gruppo politico del consigliere Peppe Quarrella.